Eccoci in avvicinamento nel nostro volo in tre parti, saliamo a bordo e continuiamo. Ho come l'impressione che anche questo volo rischi di essere, arrivare un po' lungo. Provo un po' con gli spoiler, vediamo se riusciamo a ridurre la velocità di avvicinamento. Siamo già quasi al punto di, abbiamo già aperto un'attacca di flap, ma dobbiamo andare giù fino a 2005, più o meno dopo il punto di Decel. Nel mentre siamo abbastanza vicini ai 10.000 piedi, diciamo che a 11.000 piedi, darò il segnale delle cinture che penso che sarà quello che farà chiudere i bagni, eccetera, eccetera. Eccoci qua. Vintura E luci Runway light tutto acceso Siamo quasi al punto Decel Gli spoiler sono quasi tutti aperti, apro ancora un po', vediamo se c'è modo di... Non riesco a capire perché tenga... Ah sì, perché questa forse è ancora una velocità minima... Fino al Decel Vediamo se è vero, nel caso abbiamo bruciato un po' di altezza che comunque spero sia stato utile... Ok Qui penso che mi passino a ground... Ad approach Come dicevo ho sganciato l'ATC per non avere ulteriori problemi su questo avvicinamento Siamo probabilmente altissimi... Vediamo se posso... Continuare ad aprire i flap... Ok Non ho sentito l'annuncio ma io direi Cabin crew prepare for take off... Cabin crew prepare for landing... Cabin crew prepare the cabin for landing... Ok Approach Landing system Siamo come al solito altissimi... Non so questo avvicinamento come doveva funzionare in realtà... Siamo tutto fuori di spoiler... Che comunque... In realtà ora siamo fuori tutto di flap... Quindi... Non dovrebbe minimamente incidere gli spoiler... Anzi mettiamo gli spoiler... Corretti... E mettiamo... I freni... A posto... E mi sa che toccherà anche questa volta scendere un po' drastici... Perché siamo altissimi... Allora... Autopilota via... No... Andiamo a cercarci l'ILS... Con un angolo di attacco... Decisamente non adeguato al volo civile... Ma d'altronde la procedura che l'ho seguita... Per come era nel piano di volo... E mi ha lasciato... Molto 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 più alto del previsto... Ok... Giriamo in tondo... Avrei probabilmente dovuto tenere una holding pattern... Precedente... Questo penso non piacerà ai nostri... Esatto... Ora... Li sento pure urlare... Ma... Cosa vi aspettavate d'altronde? Ok... Andiamo così... E... Ricominciamo... Continuiamo la discesa verso... L'ILS... Seat for landing, please... Seat for landing, please... Seat for landing, please... Allora... Sto scendendo più o meno... Fino a quando trovo l'ILS... Dopodiché proverò a riattivare l'autopilota... Per l'allineamento... Per l'allineamento... E il successivo... A... 3000 qualcosa... Però... Ok... Accendiamo i due autopiloti... E cominciamo ad allinearci... Ok... Stanno risalendo un po' perché siamo un po' sotto la quota... In questa virata... Cerchiamo l'aeroporto... Eccolo là... Stiamo andando verso la left... Quindi... Quella di là... Non quella di qua... Ma dopo questa piccola manovra... Che avrà fatto impazzire tutti... Andiamo a vedere un momento le condizioni... Penso che l'ansietà è altissima... I'm feeling pretty nervous... Can't wait until... The wifi... Come back home... Very anxious... Very anxious... Ok... Accessive... I-O-Rate... Non c'è dubbio... Abbiamo fatto una manovra di stile militare... Per rimetterci su questo ILS... Ma... Lo sapete... E' più o meno... Il mio marchio di fabbrica... Questo tipo di atterraggi... Ok... Siamo quasi in allineamento... Quasi... Non so perché continui a girare in quel senso... Ah... Ecco... Forse... Adesso ha capito che deve andare nell'altro... Perfetto... Un po' bassi rispetto all'ILS... Ma... Dovrebbe andar bene... A parte per possibili altre aeree in atterraggio... Spero che sia... Si sia seduta... Ecco... La pista è un po' completamente dall'altra parte del mondo però... Spero di farcela per l'allenamento... Mi preoccupa un po' questo aereo qua... Cos'altro manca? Landing gear... E... Cabin check... Cabin check... Sì... A questo punto però stacco l'autopilota... E... Risistemiamo un po' l'allineamento per conto nostro perché... Mi sembra che continui ad andare avanti e indietro e non capire bene dov'è l'aeroporto... Ecco l'aeroporto è lì... A questo punto... Possiamo rientrare in autopilota... Se no qui eravamo a fare avanti e indietro avanti e indietro... Sperando che l'ILS e l'autopilota riuscisse a seguire l'ILS... Gli si è dato una mano quindi adesso avviciniamoci... Dopodiché a terra dovrebbe essere relativamente semplice arrivare... Al... Parcheggio... Ai blocchi... Ok... 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 Spero che in cabina siano tutti belli seduti... 1000... 1000... 1000... ... ... ... ... ... allora abbiamo i brake insettati a basso spero bastino la pista non è lunghissima ma non è neanche corta abbiamo anche l'inversore di spinta attacco l'autopilota le terrelle sono fuori verifico ma ok forse siamo un po' bassi senza forse siamo un po' bassi ora siamo un po' alti 200 100 50 40 30 20 retard e penso sia stato abbastanza leggero non so cosa si lamenti oh ok pensavo che la manetta facesse un'altra cosa ho impostato i comandi nella maniera sbagliata va bene lo stesso ripartiamo e come sentite il cabin crew sta raccontando cosa succede nel mentre è ripartita anche la musica di sbarco pensavo di avere una leva per l'inversore di spinta invece non lo era avevo effettivamente un pulsante che non ho premuto ma va bene lo stesso ci siamo fermati più o meno per tempo adesso contattiamo ground fiume ground gates e accendiamo l'APU e e e e e e e E siamo finalmente ai blocchi, bene, possiamo spegnere un po' di luci. E avvicinarci. Perfetto, siamo fermi. Parking brakes are on e chiediamo il collegamento nel ponte d'imbarco. A questo punto spegniamo i motori e spegniamo anche il beacon. E a questo punto penso che ci sia tra poco la ground crew a contattarci nel mentre noi... Eccola qua. Ground to copy. What? Go ahead. Hi Captain Micromont, check please. You're loud and clear. Five over five. Roger. Ok Captain, ground power is available. Stand by. We'll start getting you offrodite in a couple of minutes. Roger. Ok, ground power is available. Colleghiamo. E quindi, via le cinture. Cabin crew, the aircraft is secure. Please open the doors when ready. You're clear to begin to boarding. E penso di essermi dimenticato solo un piccolissimo dettaglio, cioè il disarm doors che andrebbe detto durante il rullaggio e non l'ho detto in effetti. In teoria, se non hanno disarmato le porte prima di aprirle, sarebbero partiti gli scivoli, ma facciamo finta di niente. Allora, a questo punto dovremmo avere tutte le nostre, il nostro allegro, gli allegri passeggeri che hanno avuto un volo terrificante, totalmente ansioso per praticamente tutte le persone per le manovre che ho fatto in atterraggio. Naturalmente, che stanno sbarcando. E una volta sbarcate tutte, dovremmo avere di nuovo i messaggi dalla ground crew, dalla cabin crew, per chiudere questo volo e cominciare le pulizie dell'aereo pronti per un volo successivo. In realtà, questo potrebbe essere il classico ultimo volo della notte, considerando l'ora in cui siamo arrivati. Ultimi passeggeri in questo momento. Ed ecco che ci chiamano. Mi dice che ho fatto un rough landing, mi sembrava di essere andato... Mi sembrava di essere andato leggerissimo, in realtà, in questo atterraggio. È stato un po' rough tutto il resto dell'avvicinamento, ma... E ora sentite le... Le aspirapolveri che partono. Bene. Ed eccoci qua con la valutazione del volo. Il volo Linate Fiumicino è un C. Abbiamo fatto 1205 punti su 1975. Un firm landing, secondo quello che è stato misurato, e un bad flight in generale. Allora, andiamo a vedere più o meno... Descent rate outside limit. Bank angle outside limit. Vabbè, siamo andati un po' sull'erba, non l'avete visto, ma... Sono andato un po' sull'erba al fiumicino. Errore nelle luci in decollo... Ehm... Luci in volo basso, logicamente, dopo il decollo non erano a posto. Cabin management, era tutto a posto. Seed by side off during refueling. Seed by side on during pushback, eccetera eccetera. Tutto a posto qua. Cabin communication. Eh... C'è stato un problema prima del take off. Effettivamente abbiamo avuto un... Rullaggio molto anticipato. Eh... Weather announcement during cruise... Eh... Inaccurate... Potremmo dire di sì, ma in realtà... Il tempo era buono, ma ci sono state turbulenze più che altro dovute al pilotaggio. Is it not to prepare passengers for the approach? Ehm... Ok, lo dovevo dire io. Pensavo fosse dei... Pensavo fosse una cosa che avesse... Che... Doveva fare la crew. Ehm... Logicamente... Arrival... Non è stato... Fatto buono. Però comunque abbiamo una C. E direi... Che per questo volo è tutto. E... Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non siete... Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E alla prossima.